La grande marcia su Washington, 250.000 persone esondano lungo il cuore amministrativo degli Stati Uniti. Era il 28 agosto 1963, quando il leader del Movimento per i Diritti Civili e pastore Martin Luther King sfila a capo di una manifestazione in favore dell'uguaglianza in una nazione. Gli Stati Uniti invece divisi nei diritti per i bianchi e gli afroamericani e che pronunciava parole destinate ad essere scolpite nella storia. Io ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione dove non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per ciò che la loro persona contiene. Io ho un sogno oggi. Parole da non dimenticare, attuali di cui far memoria e per preservarle all'usura del tempo e renderle sempre attuali, anche favorendone un rinnovato ascolto, Motown Records e la Universal Music Enterprises, quasi 57 anni dopo, in un album ne hanno rimasterizzato digitalmente la registrazione del 1963. A Martin Luther King l'anno seguente venne assegnato il premio Nobel per la pace. La sua vita venne messa a fine a 39 anni da un colpo di fucile di precisione alla testa, sparato il 4 aprile 1968. Non violenza, affermava King, significa non solo rifiutarti di sparare un uomo, ma anche di odiarlo. E l'eco della marcia su Washington sembra risuonare ancora oggi. Sììììììììììììì!